In dato odierna i carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria con il supporto dei comandi provinciali di Napoli e Salerno, a conclusione di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione Stettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione all'ordinanza dispositiva di misure coercitive personali con contestuale sequestro preventivo di beni patrimoniali nei confronti di nove soggetti gravemente indiziati da gestione per delinquere finalizzata alla falsificazione e distribuzione di documenti identificativi nazionali validi per l'espatrio. Il gruppo criminale alimentava diverse filiere distributive di passaporti falsi in bianco che venivano personalizzati favorendo in tal modo l'immigrazione clandestina proveniente soprattutto dai paesi subsahariani e mediorientiali. Le indagini avviate nel settembre 2020 ed estese in campo internazionale sul canale Europol hanno consentito di delineare l'attività di un'articolata organizzazione criminale radicata nelle province di Napoli e Salerno e strutturata per comparti di specializzazione in più siti. Il medesimo sodalizio produceva anche ingenti quantitativi di banconote falsi della Repubblica Democratica del Congo per un totale di 50 milioni di franchi congolesi. Le indagini hanno complessamente consentito lo smantellamento di 700 di produzione, l'arresto e fragranza di quattro soggetti e il sequestro di centinaia di documenti identificativi e numerosi stampanti digitali. Nel corso di operazione è stato anche eseguito il sequestro di beni per un valore complessivo di circa un milione di euro.